Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accada nel film? Adesso! Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso. Che è successo al prima? È passato. Quando? Adesso. Siamo all'adesso adesso. Torniamo al prima! Quando? Adesso. Adesso. Adesso? Non posso. Perché? L'abbiamo superata. Quando? Proprio adesso. Quando il prima sarà adesso? Presto. Quanto presto? Signore! Che c'è? Ho identificato la loro posizione. Dove? È la luna di vento. Ottimo lavoro stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo. Quando? Che c'è?